Guarda stasera che affluenza c'è, guarda stasera che affluenza c'è. Allora com'è? La frondra? La frondra è a caccia, a caccia, a caccia. Non arrivano ancora, stasera ha un'affluenza. A me mi disse che il Parnera è più salto con il Parnera. Sì, guarda stasera, guarda una caccia, guarda che è ricascato. Guarda, 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 guarda. Una ecco fondata per chi canata lo troppo target. Guarda questioning il un buono tanto bisogno di fare con il forte spesso.